Calcio Napoli 24 Mister, buongiorno Mercoledì la Primavera ha raggiunto la finale di Coppa Italia Il Presidente Laurentiis si è detto molto contento Vuole aggiungere qualcosa anche lei Considerando che la Primavera, come la sua squadra, ha tanta fame di vincere E soprattutto lei ha avuto a disposizione in Europa League e nel ritiro di Di Maro Diversi giovani come Novotni o Roberto Insigne La Primavera che faccia bene, sono contentissimo Anzi complimenti, stanno facendo un campionato eccezionale Hanno ottenuto quest'altra bella soddisfazione Al di là comunque io credo che a livello giovanile Dato che ho allenato anche io la Primavera Si debba guardare la crescita dei giocatori L'esordio di Roberto Insigne la dice lunga da questo punto di vista Avere un settore giovanile è una Primavera importante È una risorsa sempre per la società e anche per il futuro E credo che tutto questo movimento faccia bene alla società a Napoli Quindi è tutto un portato al positivo Ogni cosa che sta succedendo La Primavera è una conferma Oltretutto ci sono tanti giocatori che ora giocano in questa Primavera Che vengono da tanti anni di settore giovanile del Napoli I ragazzi sono cresciuti E questo è un orgoglio da parte di tutti Di Santoro, di Bigondi Tutti quelli che si sono occupati fino ad ora del settore giovanile Grazie! 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 Grazie!